Trageria a Eboli, due pitbull aggrediscono e uccidono un bambino di 13 mesi, ferita anche la madre che ha tentato di salvarlo. Buonasera dalla TGR Campania, aveva solo 13 mesi il bambino morto a Eboli questa mattina in seguito all'aggressione di due pitbull, ferita anche la madre che aveva cercato di salvarlo, Alessandro Di Liegro. Li conoscevamo i cani, però non si sono mai buttati addosso a noi, però non hanno mai visto i bambini di questi cani qua, conoscendo i cani non sanno chi era e si sono buttati. La tragedia è intorno alle 8 del mattino in una villetta in località Campolongo, Eboli, nel Salernitano. Un bambino di soli 13 mesi aggredito da due pitbull mentre rimbraccia lo zio, accanto alla madre, il corpo ferito a morte da più morsi, una famiglia distrutta che grida il suo dolore. Sul posto i carabinieri della stazione di Eboli che indagano con il coordinamento della procura di Salerno. Quello che gli inquirenti stanno verificando al momento è di chi fosse la responsabilità della custodia dei pitbull, oltre che la proprietà degli stessi, che parrebbe essere riferita a più persone. I due cani che hanno aggredito il bambino sono stati presi in custodia dall'autorità giudiziaria, un terzo restituito ai proprietari. La salma del piccolo è stata trasferita all'albitorio di Eboli.